Ottava di Santa Lucia, simulacro, ritorno in cattedrale, la diretta su Video 66. Siamo giunti all'ottava della festa di Santa Lucia, mercoledì 20, il simulacro farà rientro in cattedrale. L'emittente seracusana Video 66 trasmetterà come ogni anno la diretta sull'app Video 66, tutte le fasi dell'ottava di festa Santa Lucia. Mercoledì alla Basilica Santuario di Santa Lucia Sepolcro, alle 11, solenne concelebrazione presenuta da Monsignor Giuseppe Costanza, il ceresco merito di Siracusa, con l'omaggio alla Santa Patrona da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco dell'Associazione Santa Lucia Frai Fragnami di Siracusa. La diretta televisiva si può seguire tranquillamente scaricando su qualsiasi telefonino l'app Video 66, comodamente, ovunque voi siate, senza essere obbligati a rimanere a casa, mentre siete in compagnia, in auto oppure per strada. Alle 16 l'uscita del simulacro e delle reliquie di Santa Lucia dalla Basilica seguirà la precessione per le vie Ragusa, Piazza della Vittoria, Via Testaferrata, sosta presso il Santuario della Madonna delle Lacrime, con omaggio dell'Unitalsi. La precessione riprenderà per Via Testaferrata con una sosta all'ospedale per la preghiera degli ammalati, per poi percorrere il Corso Giolone, dove ai portatori si alterneranno i Vigili del Fuoco. E poi via Catania, Corso Umberto, sul Ponte Umbertino verrà eseguito il tradizionale spettacolo pirotecnico. La precessione riprenderà per Piazza Panca, Le Corso Matteotti, Via Roma, Piazza Minerva e Piazza Domo. Il simulacro rientrerà nella chiesa cattedrale e sarà chiuso all'interno della nicchia nella sua cappella. Grazie.